Quando parliamo di cultura parliamo una delle attività che storicamente la provincia di Milano ha seguito ma è un'attività che probabilmente la futura città metropolitana non andrà a continuare ad occuparsene. Questo perché? Perché la città metropolitana avrà una serie di funzioni diverse rispetto alla provincia attuale ma si dovrebbe interessare globalmente liberando da questo i comuni di trasporto pubblico, di infrastrutture, di ambiente di politiche attive del lavoro e delle scuole superiori. Non altro. Tutto il resto che oggi facciamo dallo sport ai giovani alle pari opportunità alla cultura non dovrebbe più essere competenza della città metropolitana. Quindi se vogliamo una distinzione tra ciò che fanno i municipi, i comuni e ciò che fa l'ente di secondo livello. Però in questi anni, in questi decenni la provincia si è sempre interessata e devo dire che anche in questi cinque anni di mandato che mi è stato dato dal voto dei cittadini abbiamo fatto, anche se in un momento di risorse economiche assolutamente contingentato, per cui si è cercato però di salvare ciò che era positivo a fare, attenti alla spesa. Ricordo alcune delle cose importanti a favore dei cittadini, ad esempio l'invita a teatro che ha consentito non solo in Milano ma anche nelle altre città, sono 134 i comuni della provincia, il fatto di poter andare a vedere delle compagnie, anche molte compagnie giovani che abbiamo cercato di aiutare nelle diverse realtà del nostro territorio. Noi partiamo prima di tutto da un appuntamento con il cinema che è nello spazio Oberdan, lo spazio Oberdan è una struttura di proprietà della provincia a Porta Venezia praticamente, dove vi è una bella sala di 200 persone e vi sono tutta una serie di attività proprio di natura culturale, teatro, musica, cinema molto e nello stesso momento però anche esposizioni di artisti che sono in qualche modo un momento di vera vivificazione. Devo dire che il vicepresidente e assessore alla cultura Umberto Maerna ha fatto un lavoro davvero egregio in tutti questi anni. Oggi ad esempio in questo periodo noi abbiamo una mostra fotografica dedicata a Isis che è un fotografo lituano attivo a Parigi negli anni 30. vi invito quindi ad andarla a vedere. Ricorderete una mostra meravigliosa, sempre fotografica, che abbiamo fatto un anno fa di Robert Duesno. È stata una cosa con un successo davvero incredibile. Non incredibile, è così bello che ci sarei tornato due volte se avessi potuto. Abbiamo poi altre cose storicamente di grande rilievo. Una biblioteca che è aperta alle visite dei cittadini e che ha tutta una serie di patrimoni, dei libri ovviamente, ma anche per i ricercatori quelli che sono, diciamo, delle gazzette ufficiali italiane dal settembre del 43, il bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Cioè dei valori, dei patrimoni che sono a disposizione di coloro che studiano tutto questo perché è la storia, poi la storia di un popolo, quella che attraverso questi documenti si proietta anche verso il futuro. Abbiamo delle cose bellissime anche all'interno di questo palazzo, Palazzi Zimbardi, che ha, diciamo, avuto in tutti questi anni una caratteristica, cioè le visite riservate ai cittadini. Dei gruppi fatti da cittadini, ma anche in occasione delle domeniche di apertura che noi abbiamo fatto, abbiamo sempre aiutato poi coloro che avevano il desiderio a conoscere le bellezze d'arte che abbiamo qua dentro. Ho pensato una fantastica tela del Tiepolo che è sul soffitto della Sala Giunta e sempre in Sala Giunta abbiamo la scrivania che era del generale, del maresciallo Radezchi, ahimè famoso per le condanne a morte che nel 48 vennero, durante le cinque giornate di Milano, dopo le cinque giornate vennero firmate. Proprio tanti persero la vita, tanti emigrarono nel canton Ticino. Ancora attività come quelle di informazione, lo IATA che è in Piazza Castello, ora lo passeremo doverosamente al Comune perché poi, come dico, è soprattutto su questo che deve essere data attività da parte dei comuni e poi per i ragazzi un impegno che abbiamo sempre rispettato e che sono le visite a Mauthausen, agli altri Leager e nello stesso momento ricordando gli italiani morti nelle foibe. Tutto questo è cultura, tutta questa è storia, è il futuro di un popolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.